aria aria come mondo fa che successe il telefono ho messo a fare un scherzo ma si tommai fatto uno scherzo sulla rotta del telefono io lo sai quanto c'è posso vedere al telefono mio no? che porca guarda se mi si apre. Giorgino. Tra via il video. Eccolo che così lo facciamo sapere pure famiglia io ho capito che cazzo non c'erano ma io ho vero segnalo fino a segnirle spingi tutto spingi. E' una ghiaccio che è una figlia in meca. Perfetto. Cazzo Dio. Ok. Perfetto. C'è pronto? Vai. Porco Dio. Fammi perché? Aspetta. No bravo faccio no bravo ma graffi. Allora tu ti sei chancelato. Porco Dio. Tu ti sei chancelato? Porco Dio. Tu ti sei chancelato. Porco Dio. Tu ti sei chancelato. Porco Dio. OVIGIO E' un PRANK Hai visto come è stato messo? Mi sta a fare... Mi ha iniziato a fare senso tutto a casa la musica Mi ha messato proprio il culo Meno... Senti E' un PRANK DIGO E' un PRANK E' un PRANK E' un PRANK Ma se io faccio così col ventilatore Mi ha preso tutto il vetrino Fra Fra, dovrete l'heading, pensa Fra C'è adesso si è cancellato pure il tuo account Fra Ma era Ma se è... Ma se è... Ma se è... ma si fra 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 ti posso dire una cosa ma si posso dire una cosa adesso è un problema ti posso dire una cosa vai ma va a fare un culo ma fredda fredda ma fredda ma magari fredda con il virus ma va a fare un culo